Ieri l'esonero dell'allenatore Pifani e del vice di Gian Natale. Oggi la presentazione del nuovo responsabile tecnico Fabio Brini in mezzo le dimissioni del direttore sportivo Bocchetti. Non ci si annoia in casa dell'Alma Juventus Fano, anche se la città, soprattutto i tifosi, avrebbero fatto volentieri a meno di questi ribaltoni ora che la stagione sta entrando nel suo momento più caldo. Con otto giornate da giocare e un ultimo posto in classifica dal quale bene togliersi alla svelta, serve una sterzata immediata e per provare a compierla il patron Claudio Gabellini e il direttore generale Simone Bernardini hanno deciso di affidarsi all'esperienza di Fabio Brini, allenatore 62enne con alle spalle due promozioni in serie B quando sedeva sulle panchine di Ancona e Carpi. Nativo di Porto Sant'Elpidio, il neolenatore Granata ha iniziato la sua carriera nel 1995 sulla panchina della Monte Giorgese, dopo che da calciatore aveva militato anche in serie A difendendo i pali di Ascoli e Udinese. Fatale all'ormai ex mister Epifani il 3-0 incassato domenica Ravenna, un risultato che ha messo in luce ancora una volta le lacune del Fano, che con i soli 14 gol all'attivo è la squadra con l'attacco meno prolifico della serie C. Puntiamo sull'esperienza di Brini per voltare pagina, ha detto il DG Bernardini, mentre il tecnico ex Foggia Eternana dal canto suo non vede l'ora di far parlare il campo. Sono in una società seria dove si rispettano le scadenze e si può parlare solo di calcio e vi assicuro che non è poco, ha commentato l'allenatore. Sono consapevole di arrivare in un momento difficile per cui è bene mettersi subito al lavoro per portare l'alma nelle posizioni che gli compete. Per provare a dare alla squadra la sua impronta, il tecnico Porta Elpidiense avrà a disposizione due settimane, visto il rinvio della sfida di domenica contro la Fermana a causa del protrarsi dei lavori alla tribuna, elemento anche questo di cui la città e soprattutto i tifosi avrebbero fatto volentieri a meno. L'importante è che noi diamo risposte in mezzo al campo.